Mi chiamo Paolo Ferrarese, sono titolare dell'omonimo studio, mi occupo di internazionalizzazione, aiuto le aziende italiane a vendere i loro prodotti sui mercati esteri. Da anni sono innamorato della cultura del mondo arabo e ho partecipato a questo corso per avere degli elementi in più per poter aiutare la mia clientela nell'affrontare questo mercato, questa cultura nel migliore dei modi.